La Commissione ha deciso che il candidato è promosso. La ripetente Pedron Eleonora è promossa. La Commissione ha deciso che Zambrotta Gianluca sia promosso. Per queste ragioni, e aggiungo io per quegli occhietti che lo abbracceresti, il rimandato Schillaci Salvatore con un calcio nel sedere è promosso. La ripetente Elia Antonella è rimandata. Prego accomodati. Il ripetente Miccio Enzo è rimandato. No! Meraviglia! No! 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 No!